La modella italiana Elena Berri ha fatto parlare di sé sui social media dopo aver postato delle foto in bikini rosso mentre si rilassava a Maurizio. La bellissima fidanzata del famoso pilota di Formula 1 ha lasciato i fan a bocca aperta con le sue curve mozzafiato e il suo sorriso contagioso. Elena è una giovane modella italiana di 24 anni che parla diverse lingue, tra cui l'inglese, l'italiano, il francese e lo spagnolo. La sua bellezza e il suo talento le hanno permesso di conquistare molti fan sui social media, dove vanta un impressionante seguito di oltre 100.000 follower su Instagram. Nonostante la sua giovane età, Elena ha già una carriera di successo come modella, con numerosi lavori per importanti marchi di moda e pubblicità. La sua bellezza mozzafiato e la sua eleganza naturale la rendono una delle modelle più richieste del momento. La modella italiana Elena Berri ha fatto parlare di sé sui social media con le sue foto in bikini postate mentre si rilassava a Maurizio. La bellezza mozzafiato di Elena ha conquistato non solo i fan di moda, ma anche quelli del mondo della Formula U. Ma non è solo la sua carriera di modella a far parlare di sé. Elena è anche la fidanzata del pilota di Formula 1 Esteban Ocon, che corre per l'Alpine dal 2019. Purtroppo per Ocon, la sua stagione non sta andando come sperava, con risultati altalenanti nelle prime gare. Ma la sua relazione con Esteban Ocon ha attirato l'attenzione dei media di Gossi. Ma la sua relazione con Esteban Ocon ha attirato l'attenzione dei media di Gossi. La coppia sembra essere felice e appagata nella loro relazione. Elena è sempre presente ai Gran Premi per supportare il suo fidanzato e mostrare il suo sostegno al mondo della F. Infatti Elena ha spesso accompagnato il suo fidanzato ai Gran Premi di Formula 1, mostrando il suo sostegno. Ma nonostante la sua presenza costante ai Gran Premi, Elena ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata al sicuro dagli occhi indiscreti dei media di Gossi. La giovane modella è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata, preferendo concentrarsi sulla sua carriera di modella e sul suo amore per E anche se la sua vita privata è spesso al centro dell'attenzione dei media, Elena rimane una persona riservata e discreta, che cerca di mantenere la sua vita privata.